I fondi europei sono una grande opportunità per tutte le nostre comunità, però bisogna stare assieme, uniti, per poter muoversi anche in questa difficoltà di recuperare i fondi stessi. L'opportunità che ci offre questo SEVE è proprio importante perché dà innanzitutto formazione anche al personale nostro dei varienti e al tempo stesso, mettendo assieme le forze, contribuisce a realizzare, a rendere possibile questo obiettivo comune, cioè di recuperare questi fondi per sviluppare le comunità.